Continua l'attività di raccolta del sangue, questa volta vi hanno aiutato anche i carabinieri? Sì, continua la raccolta di sangue, in realtà non si è quasi mai fermata giusto il periodo del lockdown. Questa esperienza con i carabinieri in realtà era stata pensata e organizzata prima del lockdown e solo oggi si è potuta realizzare. Seguirà un secondo appuntamento nel mese di settembre. In questo periodo c'è emergenza sangue, c'è bisogno delle donazioni? Come voi sapete, sempre i periodi estivi sono i periodi in cui c'è un po' più di carenza di sangue, ma grazie a Dio con le raccolte che stiamo organizzando sia a Crotone ma anche nella provincia stiamo cercando di superire a tutte le esigenze. Vere e proprie carenze non ce n'è al momento. Le forze dell'ordine si sono messe a disposizione e questo è un segnale positivo per la nostra città. Continuerà l'attività di raccolta del sangue? Sì, si continuerà nella raccolta del sangue. Io ringrazio moltissimo i carabinieri per questa iniziativa che comunque si ripeterà a settembre e speriamo anche in futuro. Per quanto riguarda noi stiamo organizzando altre attività per la fine di questo mese e i primi di agosto sul territorio e anche in collaborazione con il centro. Quello che io mi sento di dire è comunque ai donatori di andare a donare al centro. È sempre necessario alla nostra opera e deve sempre continuare senza sosta.